non è stato e non è un periodo facile per le aziende e per i fleet manager però poter contare su un valido partner per la mobilità aiuta ne parliamo proprio con il team di program a cominciare da riccardo pierinelli che è responsabile dei servizi post vendita buongiorno buongiorno a te marina e grazie per l'invito ecco ci chiedevamo come il covid ha impattato su program e in particolare a te chiedo sull'area dei servizi post vendita guarda l'area del servizio post vendita io la definisco il cuore pulsante del nostro business perché l'auto il pezzo di ferro chiaramente il cliente lo può scegliere da programma o da un altro player poi quello che fa la differenza è chiaramente dal momento in cui si consegna le chiavi al driver fino al momento della restituzione del veicolo e delle chiusure del contratto il covid è stato uno tsunami è stata una situazione assolutamente imprevista che è andata ben oltre devo dire l'immaginario ha portato un impatto importante innanzitutto ha congelato la mobilità considera due numeri giusto per capire l'impatto nel mese di marzo rispetto al mese del 2000 lo stesso mese del 2019 il nostro volume di costi post vendita si è ridotto di circa il 30 per cento riduzione che ha raggiunto e superato il 50 per cento nel mese di aprile abbiamo usufruito degli ammortizzatori sociali messi a disposizione dal governo penso in primis alla cassa integrazione però garantendo una rotazione dei nostri colleghi di una presenza fisica in azienda che potesse assicurare l'erogazione del servizio in caso di necessità da parte dei nostri clienti anche perché una buona fetta della nostra flotta considera che è rappresentata da forze dell'ordine e da operatori della logistica del servizio ultimo miglio quindi soggetti che hanno hanno continuato ad assicurare la mobilità e il loro servizio soprattutto nei mesi centrali del primo lockdown se pensiamo alla prima fase quella della consegna delle vetture quali misure sono state messe in atto per garantire la sicurezza del cliente un tema molto caldo e su cui siamo intervenuti prontamente è come tu ben sai quello della sanificazione la sanificazione con la tecnologia ad ozono permette infatti di intervenire in modo profondo all'interno dell'abitacolo del veicolo e quindi andare ad azzerare con assoluta certezza la presenza di qualsiasi batterio o virus all'interno dell'abitacolo del veicolo questo l'abbiamo fatto sia noi direttamente dotandoci di un dispositivo certificato a livello europeo che ha permesso di poter fare la sanificazione su tutti i nostri mezzi prima della consegna al cliente i nostri mezzi intendo sia mezzi nuovi di nuova immatricolazione da consegnare ai nuovi clienti ma penso anche e soprattutto lasciami dire ai mezzi cosiddetti nostri di parco eh mezzi sui quali abbiamo attinto soprattutto durante il periodo anche del del covid del lockdown eh per ehm soddisfare le esigenze dei clienti legate a veicoli sostitutive preassegnazioni proprio per cercare di intervenire e attutire l'impatto dei ritardi nella consegna dei nuovi veicoli questo vale ovviamente anche per il network con cui collaboriamo ogni giorno sul territorio per quanto riguarda gli interventi di assistenza il service eh quindi penso a tutto il mondo della meccanica della carrozzeria dello stesso renta car eh sostituzione cristalli eccetera può sembrare un po' azzardato ma oltre agli effetti negativi che ovviamente ci sono stati sul settore possiamo parlare anche di alcuni effetti collaterali positivi del covid? Il covid ha portato a un a un congelamento della mobilità nel nostro caso significa quindi le vetture non hanno circolato non hanno avuto necessità di fare interventi meccanici non c'è stato il rischio di sinistri e questo lo abbiamo percepito eh lo dimostrano e lo confermano i numeri della nostra performance nei due mesi eh cruciali eh del del lockdown. Dall'altra parte mi piace anche evidenziare che durante questo periodo visto che è una delle attività eh core del del nostro post vendita eh ci siamo impegnati fortemente tutti i ragazzi del team a cercare di rassicurare i nostri clienti in un momento sicuramente di ansia di incertezza eh quindi parlare con i driver con chi eh ha vissuto come noi questi momenti eh di grande imprevedibilità eh devo dire che eh la struttura snella la struttura diretta person l'approccio personalizzato di programma ritengo che abbia fatto la differenza e sia stato un carattere distintivo del nostro servizio rispetto ad altri approcci più generalizzati. Siamo con Leonardo Giannellini responsabile dell'ufficio crediti. Buongiorno. Buongiorno. Come il covid ha impattato sul programma e in particolare sull'area finanziaria del credito che è quella che segui? Sì beh diciamo che come presumo diverse società eh anche nello specifico proprio del noleggio eh i mesi di marzo e aprile e maggio sono stati eh abbastanza impegnativi se non per dire eh tragici ma insomma eh quindi hanno impattato fortemente in termini di insoluti di richieste eh di supporto quindi come sospensioni, rateizzazioni ehm le più svariate eh richieste per venire incontro diciamo a questo problema della mancanza di di liquidità. Noi come programma eh quindi abbiamo adottato una serie di misure personalizzate quindi non generiche per tutti eh che andavano magari dalla dilazione di pagamento, soprattutto dalla sospensione nel caso in cui si poteva fermare il parco eh auto o eh dalla riduzione diciamo per un periodo limitato di tempo del canone di di noleggio. Eh questo diciamo un po' è il no è stato perché diciamo ehm l'abbiamo applicato solo per in quei periodi difficili di eh massima espansione della pandemia quindi del covid eh marzo, aprile e e maggio. Questa è un po' la strategia adottata ecco. Nel 2021, nel prossimo anno, come verrà attuata la vostra valutazione dell'affidabilità accreditizia nei confronti del cliente? Allora, nel 2021 l'obiettivo che hm il nostro ufficio si è posto e io in particolare con la la proprietà è quello di tutelare al massimo il patrimonio dell'azienda perché le vetture, le auto rappresentano per noi il patrimonio quindi cinquemila macchine eh rappresentano un buon eh patrimonio da tutelare al massimo. Dall'altro dobbiamo anche eh venire incontro alle esigenze dei nostri eh clienti e incrementare questo questo parco auto. Per cui le strategie saranno quelle di eh valutare eh settore merceologico per settore merceologico perché non tutti sono stati impattati alla stessa maniera dal covid-19. Eh quindi sicuramente un'analisi dei bilanci del 2020 eh anche sapendo benissimo che non saranno eh idilliaci rispetto agli anni precedenti associata ad una eh verifica diciamo di quella che è la storicità delle dei bilanci degli anni precedenti ci consentirà di avere un'idea di affidabilità o meno del del cliente. Quindi eh massima attenzione, massima analisi del settore merceologico e analisi di bilancio. Naturalmente ogni situazione, ogni eh azienda verrà valutata eh nel suo contesto e eh non sarà una valutazione generica eh standardizzata. Anche qui ogni azienda è un valore per per program che dobbiamo assolutamente salvaguardare e eh accogliere all'interno della nostra famiglia. Quindi non sarà sicuramente basata sì sui numeri e sui bilanci ma eh attenzione a ogni singolo cliente. Ci spostiamo sull'area commerciale con Paolo Umberto Campanale responsabile delle vendite dirette. Buongiorno. Buongiorno. Come il covid ha impattato su program e in particolare sull'area commerciale? Beh diciamo che è stato un un colpo che ha creato un elemento forte di discontinuità nel rapporto con eh i fleet manager con i quali ehm interagiamo ormai da da anni sia su quelli con i quali interagiamo che che con i fleet manager diciamo di nuova acquisizione quindi con i nostri nuovi clienti. È stato chiaramente un momento in cui abbiamo dovuto reinventare eh dei processi interni. Abbiamo dovuto cambiare un po' la relazione anche perché la richiesta da parte del territorio da parte dei fleet manager eh sempre più incalzante era quella di eh una richiesta quasi di aiuto no? Per cercare di capire come poter gestire insieme il lavoro eh nel momento in cui appunto si fosse presentato questo 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 problema che ormai riguarda riguarda tutti. Ehm devo dire che quello che è venuto fuori probabilmente un po' per il nostro modello di business quindi per quello a cui siamo abituati tutti i giorni e un po' perché effettivamente è eh uno dei punti di forza della nostra azienda al di là della dimensione contenuta e quindi evidentemente molto molto flessibile è stato l'aspetto consulenziale della relazione con loro. Quindi noi siamo eh devo dire la verità riusciti a fare a costruire diciamo a fortificare quell'aspetto eh consulenziale del lavoro che è stato un po' il il diciamo leitmotiv del del rapporto con con i fleet manager. Quindi secondo te è stato questo quello che ha distinto programma dalle altre società? Beh diciamo è stato un duplice sforzo. Uno nel cercare di cambiare all'interno quindi a modificare le nostre eh azioni per poter essere pronti a a subire quelli che erano i cambiamenti dati dal eh dalle variabili ambientali che si stavano presentando e sicuramente quello del eh eh rimanere eh molto vicini ai ai fleet manager dando queste diciamo un un consiglio su quello che poteva che è tuttora ehm il modo secondo noi eh di eh gestire eh la flotta e il parco in condizioni ambientali così difficili. Quali cambiamenti prevederete nel 2021? Beh in realtà eh diciamo sono quelli il 2021 innanzitutto è un orizzonte temporale eh abbastanza incognito eh visti i cambiamenti repentini a cui ormai siamo abituati nel corso nel corso delle ultime settimane come abbiamo visto. Diciamo che diventa fondamentale sicuramente non perdere eh queste due boe se vogliamo eh che sono appunto quello di cui abbiamo parlato sia sia la parte dei processi della flessibilità sia la parte appunto dell'aspetto consulenziale. Quello che vogliamo fare è sicuramente implementare quelli che sono stati dei punti di forza anche pre-covid che ben eh si eh in realtà inseriscono anche in un in un contesto difficile come quello in cui viviamo che sono quelli della formazione ai nostri ai nostri partner ai nostri ai nostri clienti. Noi eh in questo caso abbiamo un un programma che ahm al quale abbiamo fatto subire alcune variazioni ma che è rimasto nel DNA sicuramente un punto focale che è il program campus. È un punto focale dell'offerta di program perché esula da quello che è l'offerta economica mera ma è più legata a una parte di formazione quindi con una parte di formazione interna e una parte di formazione esterna con i nostri eh fleet manager eh riusciamo ad aggiornare ad aggiornarci eh in tandem con loro. Questo significa andare a stringere a doppio nodo se vogliamo una relazione no? Anche in un momento in un momento così difficile. Quindi il valore della relazione è sempre al centro di quello che fa il team program? Il il è assolutamente così ed è quello che un po' eh ci dà la forza anche di trovare nuove idee perché sappiamo che sono nuove idee che eh vanno a collocarsi in una relazione dove c'è una ehm forte attenzione alla crescita comune cioè al fatto di crescere insieme. Quindi la risposta alla domanda è sì effettivamente è così l'abbiamo messo al centro del nostro dei nostri interessi. Grazie mille e buon lavoro a tutti. Grazie a te e buon lavoro anche a te.